Quando voi mi fate i nomi e mi chiedete, io parlerò sempre dei giocatori, dei ragazzi che io ho qua, degli eventuali e probabili è inutile parlarne perché ve l'ho detto anche ieri, sono stati momenti in cui mi hanno dato dei giocatori certo di averlo il giorno dopo e al mattino seguente non me lo sono neanche ritrovato, come trattativa finita, addirittura firmato, ma può capitare perché soprattutto quando si parla di giovani impazziscono perché ci sono dei personaggi dietro che gestiscono e ti fanno vedere il bianco nero e viceversa, a volte anche ad una certa età è difficile capire qual è la soluzione giusta per cercare di emergere, di contro quando parliamo di giocatori affermati come i nomi che avete fatto voi sui giornali hanno un curriculum importante, viaggiano a certe cifre che per noi non sono permissibili, ma se solamente ci stanno pensando come vi ho detto ieri è perché credono nel lavoro che stiamo portando avanti e magari anche loro hanno l'opportunità di ricamarsi uno spazio in una piazza che... Quindi è un doppio lavoro, non è un lavoro solo in singolo? No, non è doppio, è triplo, quadruplo, non è che siamo fermi solamente su... Poi magari, ripeto, non arriverà nessuno dei due, qualcosa bisogna fare, qualcosa faremo perché è l'intenzione della società, è nostra, è quella di vedere e probabilmente sono sicuro, anzi, che arriverà dopo la partita di Perugia, perché il mercato impone certe regole che purtroppo dobbiamo starci dentro. Grazie a tutti!